Si scrive A-C-A-I e si pronuncia Acai. Ma che cos'è esattamente? Ciao, sono Susan Bowerman, dietologa. Oggi parleremo delle bacche di Acai. Le bacche di Acai sono il frutto di una palma originaria del Sudafrica. Queste bacche sono facilmente deperibili e per questo non le troviamo fresche al supermercato. In genere vengono usate come ingredienti nei succhi, negli yogurt o nei sorbetti. Tenete presente però che queste bacche contengono anche molti zuccheri aggiunti, quindi fate attenzione alla quantità di calorie. Tuttavia nel reparto surgelati del supermercato ho trovato del purè di Acai e anche dell'Acai in polvere nel freezer, prodotti che non contengono zuccheri. Sono perfetti se volete mettere un po' di Acai nel vostro frullato Formula 1 Herbalife. Nonostante siano delle bacche, gli Acai non sono dolci come le altre bacche, anzi sono un po' amari. Il colore viola intenso è dovuto a sostanze chiamate antocianine, le stesse che troviamo in altri cibi di colore viola come frutti di bosco e prugne. Le antocianine svolgono un'azione antiossidante e l'Acai è ricco di antiossidanti, tanto è vero che viene spesso definito un cibo super salutare. In realtà molti pigmenti nella frutta e nella verdura vengono da antiossidanti e ogni varietà contiene sostanze specifiche, tutte importanti per l'organismo. Il consiglio quindi è variare. Se non trovate l'Acai al supermercato sappiate che sono ottimi molti altri cibi di colore viola intenso come more, mirtilli e prugne. Grazie. Grazie.